Ciao a tutti, mi chiamo Nico e anch'io, quando stacco dal cantiere, vengo a mangiare qui. Il mio piatto preferito è chili con carne. Fa parte del Tex-Mex, una cucina regionale che unisce i prodotti tipici degli States e la classica cucina messicana. Ai ai ai, mi gusta il Tex-Mex! Un piatto diventato famoso nel XIX secolo, come primo esempio di street food. Tex-Mex, Tex-Mex, chili con carne, Tex-Mex! Venduto per le strade di Sant'Antonio dalle ambulanti. Per i pochi che ancora non lo avessero assaggiato, si tratta di uno stufato di carne piccante con fagioli rossi. Realizza anche tu un video sul tuo piatto preferito del nostro menù. I più divertenti saranno pubblicati sul canale YouTube ufficiale e nelle TV in store.